Lo spettacolo adesso, grande successo per il primo appuntamento di Comicità in Teatro, evento promosso dall'amministrazione comunale di Rende, grazie alla sinergia con impresari nazionali e imprenditori locali. Sul palco del Garden, la commedia Apparenti Serpenti con le Lorena, ci attesa adesso per l'arrivo di Anna Maria Barbere in arte sconsolata, che il prossimo 2 febbraio sarà sempre a Rende con l'esilarante spettacolo teatrale. Ma voi come stai? Vediamo. Cineteatro Garden di Rende è gremito per il primo appuntamento con Comicità in Teatro. Sul palco, Lello Arena, che affiancato da un cast strepitoso, ha portato in scena Apparenti Serpenti, commedia di Carmine Amoroso per la regia di Luciano Melchionna, risate d'emozioni per il numeroso pubblico presente. Un grande successo che dimostra come la cultura continui ad attrarre sempre più gente. Lello Arena interpreta Saverio, l'anziano capofamiglia che insieme alla moglie Trieste, interpretata da una fantastica Giorgia Trasselli, attende per Natale l'arrivo dei figli per trascorrere insieme le feste, tutti in armonia fino a quando i due anziani genitori sono autonomi. Nel momento in cui chiedono di essere accuditi, però, la situazione si complica. Saverio è stato un padre forte, presente un ex carabiniere, ma ora è indebolito dalla demenza senile. Dalla commedia, tuttavia, non esce un giudizio negativo sui figli ingrati. Nel testo di Amoroso, infatti, non c'è giudizio morale, solo la rappresentazione feroce di quel che succede nella realtà. Una rappresentazione dunque divertente, ma al tempo stesso amara. L'esplosione finale, causata dalla stufetta a gas regalata dai figli ai genitori, sommerge il pubblico nel fumo e lo porta ad immergersi idealmente in una realtà dolorosamente attuale. Un messaggio forte, raccontato tra lacrime risate.